Domenica 29 novembre, la coalizione per il clima e quindi quasi 200 organizzazioni della società civile scenderanno in piazza a Roma per testimoniare il proprio impegno in favore della difesa del clima, in vista della grande conferenza sul clima di Parigi che deciderà le sorti del pianeta ponendo vincoli, speriamo stringenti, alle emissioni di anidite carbonica da parte delle più importanti e delle più larghe economie del pianeta. È una decisione fondamentale quella che si prenderà a Parigi, una Parigi martoriata dai fatti che tutti conosciamo e che incarna veramente questa volta le sofferenze di tutto il pianeta, sofferenze contro le quali Erda Italia ha deciso di scendere in campo e contro le quali ha deciso di schierarsi, affiancandosi al messaggio di Papa Francesco dell'Encichica, una voce veramente in difesa del clima in quella conferenza di Parigi, tanto importante per il futuro di tutti noi. Quindi confermiamo l'impegno di Erda Italia e invitiamo tutti i cittadini della nostra città, del nostro paese a partecipare a queste manifestazioni che il 29 si svilupperanno in tutto il pianeta. Noi ci incontreremo a Piazza Campo dei Fiori alle 14 di domenica per marciare insieme verso Piazza Venezia, verso la via dei Fori Imperiali, dove ci sarà poi un grande concerto e dove testimonieremo tutti insieme l'importanza di questi momenti.